Nel camion nascondeva merce rubata ad Amazon, telefoni cellulari, elettrodomestici e smartwatch per poi poterli piazzare nei mercati dell'Est, ma è stato sorpreso e denunciato dalla polizia stradale di Arezzo. È successo ieri attorno alle 17, quando una pattuglia della sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo al casello di Arezzo in A1 un mezzo pesante con targa italiana con a bordo il solo conducente, un rumeno di 50 anni. Il camionista è apparso subito nervoso ed agitato e così insospettiti da questo comportamento i poliziotti hanno deciso di approfondire gli accertamenti verificando non solo la regolarità di tutti i documenti del trasporto ma anche controllando minuziosamente il veicolo. Proprio sul lettino all'interno della cabina di guida sono stati rinvenuti in bella vista 46 pacchetti contenenti cellulari e piccoli elettrodomestici ancora confezionati all'interno delle loro scatole originali, risultati rubati ad Amazon. L'uomo ha quindi ammesso che la merce, per un valore stimato di oltre 3.000 euro, l'aveva acquistata per 400 euro avendo l'intenzione di rivenderla una volta rientrato in Romania. Il cinquantenne è stato così denunciato per ricettazione e la merce è stata sequestrata.